Grazie a una pietà che mi ha dato tanto, tanto. Ti ricordi quando sei arrivato? Da lontano, nella mia vita, carico di musica, parole liquide e denti. Ma quanti denti hai? Lo dico, quanti denti hai? Ogni volta ti sorrisi io penso che tu abbia più denti e normale da quello. Sì, sei arrivato l'estate, nel cuore della mia città. Quell'anno il festival, il Paskers Festival, era dedicato al Brasile. E io non sapevo quantitamente nulla di quella musica, che a dire la verità mi sembrava un po' tutto uguale. E io devo ammettare che le nostre vacanze sono un po' poco mondane. Poco mondane? Poco mondane, Mara. Questo non è poco mondano, amore. Questa è la vacanza dell'eremita. Ma come scusa, amore? Non ti piace la Grecia? Io te e il mare, io te e il vento, io te e le capre, Mara. Le capre, te la ricordi questa? Questa è quella lena, eh? L'abbiamo conosciuta da una capretta più piena, adesso guarda le vecchie, ha la barba bianca. Siamo famici. A me vorrete a me. Famici amore. Parla di amore. E mi rendete in Bahia. Io non potevo voglia di arrivare qua, ma è mio. Bahia. Oddio, lo so, lo so, sarà anche noioso per te, questo caldo senza fine, ma per me. Lasciare il cappotto, il piumino, lasciare a quei quanti il berrettone con il pompone. Le mangià, le mangià, la grande madre, la grande madre, la regina del mare, dall'ampio vento, l'immacolata concezione, la madre di cui figli sono pesci, la rescià. L'adea della passione, della profondità, della famiglia, dell'amore. Qual è che protegge la testa di tutti gli uomini? Un fiore. Un giglio. Zuppo, appassito, ma ancora il teo. Io credo che potrebbe essere anche venuta l'ora in cui sei tu ad avvicinarti un pochino a me, non credevi? Prova. Provaci. Ma non lo so, scusa. Ma perché dovrei sapere io quello che devi fare tu? Scusa, provaci, no? Prova. Non dico, prova a essere un po', un po' meno, che ne so, un po' meno... No, provo a essere un po' più, un po' più. Ecco. Forse tu dovresti essere un pochino più... No, non ce l'ho pensato un po' meno. Forse meglio un po' meno, sì. Tu dovresti essere un pochino meno... meno... brasiliana. Sì, con te! Sai scrivere musica. Adesso ti spiego una cosa, eh. Ti svelo un segreto. Gli uomini si guadagnano da libere con quello che sanno fare. Non voglio farmi un lavoro, Mara. Non posso. La musica mi fa sentire il libero, mi fa sentire il ritmo. Ho trovato lavoro, Mara, in un cantiere. Comincio domani. Metto, rotella, rivella, bolla, distanziatore, secchi, scapelli, pennelli, petoniera, piccolo e martello. Filo, giongo, spago, gessato, calzuola, cagliola, mazzetta, scala, madina e travasso. Metto, rotella, rivella, gli uomini si guadagnano da distanziatore. Per radicare a terra i sogni dei più uomini. Il rotello è un posto. Lo visti a erigere l'obbligatura di acciato e cemento, perché teca. C'è sempre uno scheletro a sostenere la vita. Torna alle 10 di sera ad un giro di bar. Non bacia nessuno. Si siede e si mette a guardare. con gli occhi di cemento e lacrime. A guardare la chitarra che non sa più suonare. Un silenzio denso al vaso di stanze. Niente più note capace di scalfirlo. Niente più risate. Un estraneo si aggirava per casa imbolsito nel corpo e nello spirito. Poi una sera. Si è tornato prima. Come non facevi più. E abbiamo genato insieme. Come non capitava. E tu mi guardavi con tenerezza e detto Voglio scrivere una canzone su di te. Ma si davvero? E che cosa scriverai su di me? Sentiamo. No. Non hai capito mai. Su di te. Sul tuo cuore. E lentamente. Hai arrotolato la manica della mia camicetta. E hai cominciato a scrivere parole e accordi sul mio braccio. Poi sul mio corpo. Le mie spalle. Le mie manci. Il mio seno. Sono pronto a parlare. Oggi sarà l'unico giorno. Oggi. Il mio seno. Il mio seno. Luca Maestri. 37 anni. Il carattolo. Muore travolto da un blocco di mano. Aveva un contratto di sei giorni. Mirko Koritz. 53 anni. Roma. Muore cadendo dal tetto di una petuniera. Lo ha ritrovato a sua figlia nel parcheggio dell'Artena a Tartanotte. Salvatore Tinti. 43 anni. Sesto riponente. Ristucchiato da un macchinario del cementificio di Natale. Ammo tutta la notte come fosse l'ultima. Bacio alla donna sua come se fosse l'ultima. che in ogni figlio suo come se fosse l'unico che attraversò la strada con suo passo timido salì la costruzione come fosse la macchina. F Kirishman. �chi22 Lius. 47 anni. Fiscuante da un palazzo in costruzione. stava arrivando dalla quale non c'erano qualcuno guarderanno era il suo ultimo giorno di lavoro quella mattina per tornare il suo di colleghi di consiglio che era un grande oratore e che lavorava sempre cantando il rotone in aerea nel passo passero la terra si è frusciato con un pacchetto flaccido agonito nel mezzo del passeggio pubblico si spense contro mano o sta volando il traffico aerea 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 Grazie a tutti.